Il 10 agosto 2016 entra nel vivo la nuova stagione calcistica, parliamo ovviamente quella delle Le Aquile e Calatine come risaputo è preannunciato qualche settimana fa la formazione di Caltagirone e San Michele di Canzeria è stata ripescata nel campionato di promozione, ieri ufficialmente è iniziata l'attività di preparazione agli ordini del nuovo tecnico biancorosso che come risaputo Samuel Buoncompagno, un tecnico giovanissimo in termini appunto di allenatore ma con tantissima esperienza da calciatore. Cerchiamo di capire in che maniera la formazione biancorossa si è appresa ad affrontare questo campionato di promozione nel Girone D, laddove lo ricordiamo vi sono tutta una serie di formazioni blasonatissime, 9 su 16 della provincia di Catania, poi della Ragusano e di Siracusa, spiccano i nomi della Tredico Catania, della Trano, del Paternò, della Ragusa e quant'altro, quindi sarà una competizione veramente di alto livello. Ne parliamo innanzitutto con il direttore generale delle Aquile Galatine Massimo Parisi. Allora cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione perché come spesso è accaduto anche in passato si va di fretta in questi giorni, la comunicazione è arrivata poco tempo fa, ecco a che punto è in termini appunto organizzativi il lavoro? Buonasera a tutti, è certo che siamo in ritardo, il ritardo deriva dal fatto che abbiamo atteso che questo ripescaggio fosse ufficiale, questo non ci ha permesso di accelerare i tempi. Il 4 è stata la notizia ufficiale che noi entravamo col ripescaggio in promozione e quindi ci stiamo muovendo per creare le condizioni, per creare una nuova squadra che possa ben figurare questo nuovo campionato che è sicuramente di livello superiore rispetto a quello che abbiamo affrontato l'anno prima e l'anno prima ancora. Quindi è normale che stiamo andando di fretta, quindi cercheremo di accorciare i tempi di intesa con i calciatori, con la squadra, con tutto quello che dobbiamo fare. Abbiamo già preso l'allenatore, abbiamo contattato alcuni giocatori che ben volentieri hanno accettato il progetto e ci stiamo promuovendo affinché questo possa avere un inizio e un completamento entro il 28 che ci vedrà in Coppa Italia. Che è appunto la data ufficiale dell'avvio agonistico di questa stagione nel derby del Calatino contro lo Sporting Eubea relativamente alla Coppa Italia. Parliamo un attimino di questo girone D del campionato di promozione, non è scandaloso dire che poteva anche essere il virtuale terzo girone del campionato di eccellenza in concessione del fatto che è composto da una serie di squadre blasonatissime con in testa l'Atletico Catani, l'Adrano, il Paternò, ci sono tante formazioni, Ragusa, eccetera. È veramente difficile rispetto agli altri tre regionali o comunque ci sono, malgrado il ritardo, i margini per allestirono organico all'altezza dell'esigenza agonistica? Beh, intanto il campionato è un campionato dove vedete un girone che abbraccia sia le squadre ragusane, sia le squadre siracusane, sia il catanese. Quindi, vuoi o non vuoi, questo è un girone importante, dove ci sono delle squadre, delle realtà che già si sono assestate in questo genere di campionato. Quindi noi, come neopromossi, dovremmo adeguarci a quelle che sono le condizioni del campionato, che ho già detto e posso ribadire che è alquanto difficile. Però è bello perché incontreremo delle realtà diverse, troveremo delle qualità diverse. Poi che ci siano già delle squadre attrezzate a vincere il campionato, e tu sai meglio di me che chi si è attrezzato a vincere il campionato, aveva già la struttura, aveva già tutto, sapeva che doveva affrontare questo campionato e quindi questo è un grosso vantaggio. Noi cercheremo di ben figurare e salvare una categoria dove ci vede, a mio avviso, per la qualità, per la storia che è a Caltacirone, al di sotto delle nostre vecchie posizioni, che erano certamente molto più gloriosi di quelle che sono adesso. Però già fare un salto di qualità dalla prima categoria in promozione, credo che questo agli sportivi, alla città che verrà rappresentata da questa squadra, compreso la San Michelese, credo che possa essere uno stimolo in più ad avvicinarsi al calcio. Due ragioni relativamente a due scelte, perché Samuel Buoncompagni, allenatore, perché Nicola Polessi portiere. Uno perché è giovanissimo, ha già fatto i suoi primi anni di esperienza, ma ancora un giovanissimo allenatore, l'altro invece, come dire, avanti con l'età, per quanto si mantenga perfettamente in forma. Allora, la prima scelta dell'allenatore, lo determini il lavoro che ha fatto, Buoncompagni. Innanzitutto è un caltacinonese, ha lavorato fuori due anni, parecchi anni fuori, non è mai venuta a caltacinone con questo titolo di allenatore. Ho deciso di cambiare le cose, modificare la struttura, e modificare la struttura significa che questo era un programma che noi avevamo fatto con quei ragazzi, che io continuo a ringraziare ancora, che mi hanno aiutato a sostenere la prima categoria quando non avevamo nulla e nulla. Non è che adesso sia cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa perché ci appoggiano, perché si sono accorti che esistiamo, abbiamo fatto di tutto per destare un po' di entusiasmo negli altri. Ci siamo riusciti e quindi io non posso fare altro che ringraziare i ragazzi, perché questo era un processo di cambiamento che tutti quanti sapevano. Quindi ringraziare Ausilio, Messina, lo stesso Nicola Dolce che ci ha aiutato, tutti i ragazzi che ci hanno sostenuto in campo con il loro aiuto, con il loro attaccamento e con il loro impegno. E questo era un applauso che va a loro. Io mi sono impegnato per altre cose e quindi questo è un risultante di quello che noi siamo riusciti a fare di positivo. Oggi che ci troviamo in un campionato di promozione, io mi trovo necessariamente costretto a modificare, a riconfigurare quello che è l'aspetto sia tecnico, sia anagrafico e quindi e quant'altro, per aumentare anche lo spessore tecnico. Polessi ritorna a Caltasino perché Polessi è un calatino che noi abbiamo riacquisito ed è l'unico elemento che potrà avere oltre i 40 anni. Nessun altro giocatore oltre i 40 anni metterà piede dentro il campo. Da questo momento questa è una scelta già decisa da anni. E' dura rinunciare all'apporto dell'esperienza degli altri, però questa deve essere una scelta. Adesso dobbiamo abbassare il dato anagrafico e lo abbasseremo di brutto. E quindi questa è sostanzialmente la scelta. Polessi fa parte di un programma che non è mirato solo a quest'anno. Polessi ha sempre rappresentato Caltasino, ricorda qualcosa di importante. E' un professionista importante, riesce ad essere ancora importante nonostante l'età avanzata, però importa, puoi permetterti, se sei una persona lungimirante e cocciuta e professionista, mantenerti a certi livelli lo puoi fare. Ma sarà coadiuato da altri due ragazzi che cercheranno di rendergli la vita un po' più semplice. E quindi avrà anche la possibilità di allenare gli esordienti, interverrà sulla scuola calcio, in un discorso molto più generale, perché la figura di Nicola non è vista solo in porta, ma è vista nella speranza di riuscire a dare maggiore valenza e maggiore professionalità in quei ruoli dove lui fondamentalmente ha un'esperienza, credo, trentennale. Parlando di stimoli, credo particolari siano quelli che stai avvertendo nelle vesti di allenatore, avendo questa importante opportunità di allenare la squadra della tua città. Come lo puoi spiegare a parole? Lavorare per la propria città fa sempre piacere. Io l'ho vissuto da calciatore e quindi ho il piacere enorme di farlo da allenatore. e professionalmente non mi cambia niente, ti sono sincero, perché il mio modo di lavorare, quello che è il mio modo di pensare calcio, come lo faccio fuori, lo faccio qua. E' ovvio che io sono un galatino, quindi lavorare, ripeto, per la mia città mi riempie di orgoglio e spero di ripagare comunque la fiducia che mi è stata data dalla società. E' appena il secondo giorno di lavoro, si è un attimino in ritardo, tanti gli aspetti di cui vanno tenuto in conto nella preparazione di questa squadra. Ecco, soprattutto su che cosa Buoncompagni sta puttando i riflettori, osservando i tanti ragazzi che ha a disposizione in questo momento? In questo momento siamo tanti, è ovvio che ci sarà una sorta di scelte da fare, perché basta pensare che ieri eravamo 28, quindi oggi saremmo forse anche di più. Dobbiamo fare le nostre scelte, dobbiamo ritagliarci una rosa di 20-21 persone e quindi farò le mie scelte. Ci stiamo basando sempre su comunque uno statura dell'anno scorso, a parte qualcuno che rimarrà fuori, andremo a sostituire queste persone con gente di categoria superiore oppure che comunque hanno fatto tanti anni questo tipo di categoria. Una battuta veloce sul girone, come stavamo prima, duro, difficile, questo D del campionato di promozione, una sorta di terzo girone aggiunto di eccellenza, visto il blasone di moltissime squadre. Rappresenta un ostacolo ulteriore o uno stimolo in più? No, no, vabbè, a parte le 4-5 squadre che veramente si stanno organizzando per vincere il campionato, io penso che ce la giochiamo con tutti, quindi noi non allestiremo una squadra dal leader ovviamente, però io penso che saremo capaci di dare fastidio a tante persone. Bene, completiamo questo primo ciclo di interviste stagionale, di inizio stagione, qui al Pino Buongiorno di Caltagirone con un volto, un personaggio nel mondo del calcio siciliano che non ha bisogno di presentazioni e Nicola Polessi che torna a calcare in termini agonistici i campi calatini dopo esattamente 20 anni, dopo quella magica stagione 96-97 in cui la formazione Biancorsa sfiorò alla promozione in C2. Allora, inizio però con una domanda un po' piccante. Sicuramente, non diciamo l'età, gli sportivi lo sanno quanti anni hai, quali sono i pro e i contro di difendere i pali di una porta alla tua età? Se c'è come pro sicuramente l'esperienza, qual è il contro che devi combattere giorno dopo giorno allenandoti? Pro e i contro. Penso che allora ho tanta voglia, mi sento un ragazzino ancora, è strano, mi stupisco io stesso, a volte penso, alcuni mi fanno una domanda, ma ancora c'è voglia? Io dico di sì, perché quando faccio le partitine mi incavolo quando prendo golle e ho tanta voglia ancora, quindi finché ho questa voglia voglio giocare, voglio giocare sempre, tra virgolette, voglio stare nel campo, al di là se vado in porta o meno, ma voglio stare anche a fare il secondo portiere, stare dietro un ragazzo e farlo crescere, perché faccio ovviamente doppio ruolo, questo ci tengo a sottolinearlo, è circa otto anni che lo faccio, sia nell'eccellenza, serie D, l'ho fatto anche a Mazzara in serie D, e mi sono trovato bene, e con i ragazzi che ho sempre allenato, ho creato un bel rapporto, al di là che c'era la concorrenza, giustamente, però è importante che si sa convivere e che c'è sempre la lealtà di insegnargli le cose giuste, poi sta al giovane a prendere o meno e credere a quello che gli spiega Nicola Polessi, se ci crede lui cresce, se non ci crede dice magari, non lo so, io spero che creda in me anche per il passato, perché uno che gioca 30 anni a calcio, a certi livelli, magari pecco di presunzione, però non dico di aver giocato in serie A, ma bene o male ho fatto qualche categoria, penso che può soltanto migliorare, credo, e spero di far crescere, allenerò, devo sasporti, ragazzini, portierini, ci tengo a dirlo perché è una cosa che ci tenevo, e mi fa troppo piacere questa cosa, anche perché sto ritornando a casa, io abito qua, a Caltagirone, come tutti sapete, per me questa è casa mia ormai, al di là che ci ho giocato contro il Caltagirone, ho subito tante cose comunque, però è casa mia, mi sento ormai calatino, spero di far bene, perché purtroppo quando arrivi, anche se Nicola Polessi ha un nome di qua e di là, ma quando arrivi in un posto, in un posto a inizio stagione, devi sempre dimostrare, anche se è Buffon, un esempio, viene Buffon, devi sempre dimostrare, secondo il mio parere, ed è bello così, forse è più bello così. Qual è il suggerimento che ti permetti di dare a quelli che saranno i tuoi compagni di squadra in questa stagione, quindi a tantissimi giovani, e quindi qui entra in gioco il Polessi formatore per affrontarla al meglio. Noi siamo stati, spesso in questi ultimi anni, molto critici nei confronti dei giovani, che hanno tante deviazioni, non ha il calcio, lo stesso valore che aveva per te quando hai iniziato. Ecco, pensando a questo, quali sono le parole giuste da utilizzare per, tra virgolette, sensibilizzarli? No, effettivamente hai detto bene, il calcio per noi era diverso. Io non andavo a ballare il sabato, perché sapevo che l'indomani c'era la partita, ma lo facevo non con quella cosa che mi pesava, ecco, ce lo facevo con amore e con voglia, aspettavo la partita per dimostrare a tutti che ero bravo. Perché il fatto stesso che dovevo andare magari a ballare, e l'indomani facevo un errore, e dare la colpa che ero andato a ballare, a me stesso mi dava fastidio, perché ci tenevo a fare bene in campo. Oggi si è persa questa cosa, secondo me, perché in base a quello ormai, ho gioco tanti anni, quindi ho visto un po' di tutto, si è persa questa cosa, vedo gente che purtroppo il sabato sera va a ballare, esce fino a tardi, non sono tutti, però ci sono purtroppo. Quindi devi far capire a loro che la partita è una cosa sacra, che è importante, con le parole giuste. Io mi occupo giustamente dei portieri, però capita a volte di parli con qualche ragazzo, gli dai un consiglio, gli dai e, però c'è pure il mister che è abbastanza esperto per poter dare questi consigli, senza scavalcare mai nessuno, perché a me piace farmi il mio lavoro, ecco, non mi piace scavalcare nessuno, però se posso darlo un consiglio, lo faccio perché è pure giusto, in base alla mia esperienza. Se trovi il ragazzo che è intelligente, apprende. Se trovi quello che se ne sta fregando, scusando la frase, purtroppo è duro a convincerlo e a portarlo nella strada giusta. Bene, concludiamo qui questa intervista, quindi buon lavoro a Nicola Poressi e bentornato. Grazie Grebillupo, speriamo che vi va tutto bene.